Si attende il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco di Agrigento, chiesto dall'assessorato regionale al patrimonio. Al termine di questa ulteriore verifica, in attesa del Via Libera da parte dei Vigili del Fuoco, potranno iniziare i lavori di ampliamento del palcoscenico del Teatro Popolare Samona di Sciacca. Ad annunciarlo al nostro telegiornale oggi l'assessore allo spettacolo Salvatore Monte, che da tempo segue l'iter, finalizzato a dotare la struttura di Via Gatocle di un palcoscenico idoneo e che abbia caratteristiche e dimensioni degne di un teatro. La Regione dovrà poi indire la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento del palcoscenico, un intervento da 100.000 euro che prevede l'abbattimento dell'attuale muro in cartongesso, la realizzazione di camerini e la pavimentazione delle aree attigue. Durata dei lavori un mese circa. Nel frattempo il Teatro Samona si appresta ad ospitare una nuova iniziativa. Partirà il 25 marzo prossimo la rassegna di primavera organizzata dal comune di Sciacca. Si tratta di tre appuntamenti che saranno illustrati nel dettaglio domani mattina alle ore 11 in sala giunta durante una conferenza stampa indetta dall'assessore Monte. Rassegna che comprende anche l'evento organizzato in occasione della giornata mondiale del teatro, che dunque sarà celebrata anche a Sciacca il prossimo 27 marzo. Una giornata in cui accanto allo spettacolo ci sarà anche la consegna di riconoscimenti a tutte le compagnie teatrali del territorio per l'attività svolta. Potrebbe dunque essere questa l'ultima rassegna al Samona prima che il teatro venga chiuso per consentire la realizzazione dei lavori di ampliamento del palcoscenico.